Ascoltatori italiani, buonasera, in diretta via satellite dal Messico. La nazionale italiana, con le belle precedenti prove, specialmente con la partita contro il Messico nei quarti di finale, ha conquistato il diritto di disputare allo stadio a Steca la semifinale per il campionato del mondo. La maggioranza dei critici neutrali dà vittoriosa alla Germania e tecnicamente questo è anche spiegabile. La Germania ha vinto un girone rivelatosi assai duro. La Germania ha rimontato uno svantaggio di due gol all'Inghilterra. La Germania si è sempre fatta...